Il prefetto di Salerno ha sciolto il Consiglio Comunale di Torraca ed ha nominato alla guida dell'ente locale il vice prefetto aggiunto Pasquale De Lorenzo. Il commissario resterà alla guida del comune fino alle prossime elezioni amministrative. Il provvedimento del prefetto Gerarda Maria Pantalone si è reso necessario dopo che il sindaco Ferdinando Ciamba il 27 dicembre scorso aveva rassegnato le dimissioni dopo aver accertato di non avere più una maggioranza. A mezzanotte di giovedì 16 gennaio è scaduto il termine entro il quale poteva revocarle. Le dimissioni Ciamba non le ha ritirate e questa mattina il rappresentante del governo ha proceduto allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del commissario che nei prossimi giorni giungerà in comune per dare inizio alla gestione della cosa pubblica. A Torraca inizia così ufficialmente la campagna elettorale dopo un'azione politica all'interno della stessa maggioranza che ha portato lentamente all'isolamento del sindaco eletto nel 2010. Tant'è che in una delle ultime sedute del Consiglio Ciamba, nonostante il voto favorevole della minoranza, non riuscì a licenziare il bilancio di previsione. Solo nelle prossime settimane il sindaco decaduto sarà in condizioni di riferire la sua scelta per le prossime amministrative, non ha ancora deciso se riproporsi o meno agli elettori. Ciamba è stato assessore per oltre dieci anni e nel 2010 fu scelto dall'allora sindaco Daniele Filizzola, già al secondo mandato, per la candidatura a primo cittadino. Vinse contro l'unica lista alternativa capeggiata da Antonio Abbadessa. Nelle ultime settimane Filizzola e gli altri, per ragioni ampiamente motivate, hanno preso le distanze da Ciamba fino a costringerlo a dimettersi.